Eccoci ragazzi, telegiornale ben ritrovati in questo nuovo video. Allora, appuntamento del martedì questa settimana perché dobbiamo analizzare una notizia di mercato che ha preso piede ieri, nella giornata di ieri, appunto lunedì, verso l'ora di pranzo. Innanzitutto ragazzi, prima di cominciare il video vi invito a lasciare un bel mi piace qui sotto di sostegno al canale e al video. Ora veniamo al nome, appunto, di questo video. Il nome sarebbe, del numero 10, diciamo, nuovo del Milan, di Rodrigo De Paul. Il giocatore dell'Udinese, l'ultima stagione ha fatto veramente molto bene, ha trascinato i suoi alla salvezza che sembrava molto difficile. Senza i suoi gol sicuramente sarebbe stato molto più complicato. Analisi, come sempre, sul giocatore. Nell'ultima stagione ha giocato in un 3-5-1-1 dietro un'unica punta, quindi stiamo parlando di un giocatore che ha sicuramente segnato molto. E anche il rigorista dell'Udinese gioca, appunto, come trequartista ed è quello il ruolo, più o meno, che stiamo cercando di ricoprire. Può fare anche la seconda punta, è vero, però lui sicuramente si trova meglio a giocare sulla trequarti campo. Lui, praticamente, viene da un campionato, quello argentino, si è ambientato in Italia molto bene, è arrivato 4-5 anni fa ormai nel club dei Pozzo, ha sicuramente avuto un'evoluzione importante nelle sue stagioni in maglia bianconera, anche perché il primo De Paul era sicuramente un giocatore molto acerbo, faceva addirittura l'ala destra al Valencia, invece in queste ultime stagioni si è riciclato molto bene come trequartista e addirittura quest'anno è andato in doppia cifra in Serie A. Ragazzi, scrivetemi ovviamente nei commenti che cosa ne pensate di questa idea. Rodrigo De Paul sarebbe il nuovo numero 10 del Milan. Ripeto, è un giocatore molto duttile, polivalente, può fare anche la seconda punta. A me, sinceramente, piace molto, lo seguo dai tempi del Racing Avejaneta, quando guardavo le partite nel campionato argentino, appunto, mi sembrava abbastanza immaturo come giocatore, invece, nelle ultime stagioni devo dire che è cresciuto veramente esponenzialmente. Poi ci sono diverse notizie di mercato sulle altre squadre, ragazzi. Partiamo dalla Juventus. Nella giornata di oggi o di domani dovrebbe chiudersi un grandissimo colpo, è quello di Mateis Delict. Non so se vi ricordate, ve ne avevo parlato in un video di circa due settimane fa. L'operazione dovrebbe essere intorno ai 70 milioni di euro, compresi di bonus. Al giocatore andranno circa 12 milioni di euro a stagione. Per quanto riguarda, invece, il Napoli, si è complicata la pista James Rodriguez, entrato in corsa per il calciatore colombiano anche l'Atletico Madrid. Si dovrebbe richiudere, invece, a ore l'acquisto di Elmas, il giocatore che arriva direttamente dalla Turchia, dal Fenerbahce. Passiamo al capitolo Inter. L'Inter è su Lukaku, come sapete, come i tifosi narazzurri mi seguono costantemente, anche sulle storie di Instagram. Venitemi a seguire anche lì, a proposito, do aggiornamenti costanti su tutto il calciomercato. Lukaku, che però, sembra un pochino chiuso, come, diciamo, chiusa, come trattativa, anche perché il Manchester United sta facendo muro. Passiamo, invece, alla Roma. La Roma è su Alderweireld. È una richiesta specifica, assolutamente, dall'allenatore Paolo Fonseca. E c'è questa idea iguaina, anche se il calciatore dovrebbe ridursi l'ingaggio, ragazzi. Sappiamo che i calciatori, quando si devono ridurre l'ingaggio, quando li tocchi qui dietro sul portafoglio, non ci sentono. Noi, ragazzi, ovviamente ci vedremo nei prossimi video, ci aggiorneremo anche per quanto riguarda le amichevoli internazionali. Stanno per cominciare le tournée di tutte le squadre, e quindi, ovviamente, vi terrò aggiornati sia qui su YouTube che sul mio canale, il mio profilo Instagram. Ragazzi, ovviamente, lasciate un bel mi piace. Noi ci vediamo alla prossima. Buona giornata a tutti.